Guai a chiamarlo spezzatino. La dislocazione di 53 aule del liceo Cotugno dell'Aquila, ripartite su quattro sedi differenti all'interno del perimetro cittadino, è risultato di un lavoro di concertazione di sopralluoghi. 18 aule andranno nel muspo di via del Castelvecchio, 13 in quello di via Ficara, 14 nel muspo del liceo musicale, 8 aule nella sede dell'istituto tecnico geometrico Lecchi. Finalmente con un decreto firmato dal presidente della provincia Angelo Caruso e a pochi giorni dall'avvio delle attività scolastiche, ora gli studenti sanno dove dovranno frequentare le loro lezioni, in attesa che nel 2020 torni, fruibile dopo i lavori ancora in corso, l'edificio di via Leonardo da Vinci a Pettino, che avrà una vulnerabilità molto vicina a 1, il livello cioè della massima efficienza. C'è stata un'attenzione particolare anche nella scelta delle palestre, proprio per cercare di rendere il più possibile agevole questa attività per gli studenti? Certo, si è fatta una convenzione come l'anno scorso con gli impianti sportivi di Centicolella per la parte del Cotugno allocata nella zona ovest della città. Per le classi allocate nel polo di Colle Sapone invece si potrà fare una convenzione, già che la provincia ha determinato, con la palestra del Colecchi, per cui anche il problema dell'educazione fisica è pienamente risolto. Aggiungiamo anche che l'Olamagna sarà condivisa con l'ITIS dell'Aquila. Archiviata dunque l'idea, accarezzata in passato dall'amministrazione comunale di abbattere l'edificio di Pettino e spostare il liceo Cotugno interamente all'ex Optimus di Pile, ora si deve ragionare sul futuro. Quello che dovrebbe veder nascere il campus scolastico dell'ex Caserma Rossi che ospiterà tutte le scuole del Cotugno, al quale lo Stato destina 13 milioni di euro. La Caserma Rossi è la prospettiva di lungo periodo sul Cotugno. È stata finanziata una scuola nuova in toto, un vero e proprio campus, per 13 milioni di euro con delibera cibo nel 2017, fine 2017. Si è individuata l'area Caserma Rossi, ormai ex Caserma, come futura area per questa scuola che sarà la più importante della città, ospiterà tutti i licei del Cotugno. Siamo in attesa che il comune che detiene questa area passi alla provincia e si porrà partire con l'appatto di progettazione. Noi stimiamo che in 4-5 anni questa scuola sia al servizio della città. Resta tuttavia il dubbio sulla reale volontà del Governo, in particolare del MIUR che già ha espresso le sue perplessità di mantenere il finanziamento di 13 milioni di euro per il campus all'interno della Caserma Rossi. Lo Stato, si sa, non vede di buon occhio l'utilizzo di fondi per i doppioni.